Ieri a Montecitorio si doveva cominciare a discutere della riforma epocale sui rimborsi ai partiti, ma a giudicare dai presenti in aula l'interesse dei parlamentari in questo senso si è manifestato con un'aula praticamente vuota ed evidentemente sorda alle esigenze comuni su cui più volte ci siamo confrontati. Pensate erano in 15 escluso il presidente di turno Maurizio Lupi. Per dirla come si deve i partiti si sono nuovamente dati in passo all'antipolitica dimostrando purtroppo di voler ad ogni costo mantenere privilegi e benefici a discapito di chi è invece massacrato e tartassato ogni giorno e questo è un dato molto negativo. Pensate che ad inizio seduta non c'erano nemmeno i due relatori della legge che sono arrivati in netto ritardo con molta calma. Pensate che in quel momento in aula era presente una scolaresca in visita sbigottita dal silenzio e soprattutto dal vuoto intorno. I commessi hanno detto loro che il lunedì non si lavora perché è un giorno dedicato ai trasferimenti degli onorevoli. Chissà che convinzione si sono fatti questi ragazzi. Pensate un po'. E fate le vostre considerazioni. Oggi che egli assenti si giustificheranno asserendo che la loro presenza in aula non era indispensabile. Perché tutti ci chiederemo a questo punto se si poteva fare a meno di loro ieri. Perché non tutti gli altri giorni? Chissà che cosa ci risponderebbero a questo punto.